il giorno che deve risolvere diciamo per l'anima ricordo libri archidea numero uno pallinale fallinopsis numero 2 che attrae subito mevanda il numero 3 sarà l'orchidea degli semi il numero 4 5 6 vediamo allora costano 4 euro li trovate qui l'orchideria su amazon vabbè oggi voglio parlare di a mi raccomando venerdì sabato e domenica l'orchideria è chiusa perché sono qui da solo e non me la sento e sto da solo c'è un po di crisi per cui saremo chiusi allora tanti che gli muore le orchidee smettono allora quando fioriscono l'orchidea ci danno una gioia anche quando fioriscono qualcosa di nuovo che appunto ci dà una gioia che veramente allunga la vita non posso capitare che muore ed è normale tutte le cose vive e muoiono non dovete cioè deve mettere in conto che possono morire c'è una mortalità come dico sempre io abito un paesino qui in morosola che abbiamo circa 700 abitanti vado pochi funerari all'anno varese che ha circa 80 mila abitanti tutti gli ospedali così quando la prima pira che è il giornale di varese ogni giorno c'è un po di pagine di necrologi perché è normale che sia così c'è una percentuale di mortalità la cosa importante è quando una pianta ha un problema isolarla quando una pianta qualche cosa che non va bene bisogna isolarla immediatamente dalle altre per evitare contagi perché ogni tanto se ne muore una va bene se ne muore poi tante loro epidemia però bisogna evitare epidemia isolare quali come abbiamo fatto noi con il virus così allora tutte hanno un'orchidea che vuoi non è più grande di londra ci sono orchidea che più di 200 anni e continuano a fiorire rigogliosamente ma possono morire domani come tutte le cose vive perché l'unica cosa certa della vita sulle tasse la morte allora dovete mettere in conto questa roba qui è che ci sono certe signore che magari al 2 per le nostre sotto avanzare in buona pianta diventano mamma mia c'è i grandi collezionisti che magari a migliaia di piante di mora una pianta rarissima cavoli se gli dispiace però gli dispiace meno di quella signora la perché se un grande collezionista che si è fatto dire morte non è quello che dire che si è fatto le morte perché c'era per settore di mortalità bisogna tenerle conto però bisogna saperlo per sapere che può esserci qualche pianta che muore e bisogna soprattutto la prima cura da fare quando c'è la pianta che ho qualche problema isolarla ecco questa è la cosa principale che volevo deve non si muore una pianta non fate un dramma e la vita tutte le cose vive buono e anche l'orchidee a domani